Finalmente ragazzi è arrivato quel giorno nella Big Vanilla dove appunto faremo il tour del mondo Dato che me l'avete chiesto in tanti e avete lasciato in questi giorni tantissimi piace in tutti quanti gli episodi Quindi per questo video tanto speciale per voi ragazzi mi raccomando lasciate un bel mi piace Vi chiedo oggi di superare i 10.000 mi piace ragazzi quindi benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio Appunto ragazzi oggi andremo a fare un tour bellissimo della Big Vanilla L'abbiamo per esempio la casa del Bon Marci ma prima di iniziare ragazzi andiamo a fare una cosa molto importante Perché tanti di voi mi hanno dato dei consigli su come migliorare la spada di Steffo E come notate ragazzi ho ben 206 livelli che non sono per niente pochi Li ho farmati perché ormai adesso che possiamo riutilizzare la farm del land ragazzi possiamo finalmente tornare e riutilizzare tutto quanto quello che vogliamo Comunque appunto ragazzi quindi possiamo unire delle spade cioè la spada di Steffo con Fire Aspect 2 Quindi già diventa una spada bella che potente E poi anche un bellissimo Sweeping Edge 3 dato che mi avete chiesto anche di aggiungere questo incantesimo Ma non solo ragazzi perché noi dobbiamo mettere anche tecnicamente Fire Aspect 2 sulla nostra spada Solo che come notate ragazzi è diventata too expensive un po' troppo costosetta ragazzi Quindi non possiamo più mettere nessuna enchant sulla nostra spada dannazione Quindi non so dovremmo rifare un'altra spada l'ennesima spada non lo so Poi qua abbiamo la mia vecchia spada del big generale che sarebbe un sogno poter unire anche se sarebbe completamente inutile perché praticamente a enchant siamo arrivati allo stesso punto Allora oh come cacchio c'è entrato questo Ma è impazzito Utilizziamo la spada del generale 2.0 ragazzi ma mi è venuto l'infarto Ragazzi ma da dove è entrato Ma mi sembra strano eh perché spawnare qua dentro è letteralmente impossibile Boh ragazzi intanto c'è qualche mistero strano all'interno di questo mondo che non lo so Allora facciamo così intanto Noi ci craftiamo i nostri bellissimi razzetti perché sennò in giro per il mondo non ci possiamo andare E ogni volta sbaglio il crafting perché è così in realtà giusto esatto è così Quindi facciamo il nostro crafting bellissimo e ci facciamo bene uno stack e otto di razzetti Che no ragazzi spawnano da qualche lato non capisco da dove spawnino A meno che non c'è un vetro rotto da qualche parte Allora calma un attimo prima di andare in spedizione perché sennò qua come cavolo capiamo da dove arrivano Eccolo qua il nostro vetro rotto non ho blocchi con me vero no Però c'è proprio sfiutano il fatto che c'è dei marchi dentro casa questi dannatissimi zombie eh Che poi la big vanilla non so perché ma di notte spawna l'universo intero di mob Non ne ho la più palida idea dannazione Allora dormiamo e finalmente iniziamo il tour 3.0 della big vanilla Allora già che ci siamo facciamo così lasciamo giù un po' di robe completamente inutili Anche la chest plate e queste robe qua le lasciamo un attimino giù ragazzi Perché tanto se ci portiamo più roba in giro peggio è perché nel caso proprio ci schiantassimo contro il suolo Potrebbe essere un piccolo problema se ci perdessimo anche la spada di Steph e queste robe qua Qua abbiamo il mio vecchio piccone quello con silta ci ricordiamocelo Ma poi sono pieno zeppo anche di robe un sacco preziose Qua sono 30 diamanti 9 pezzi nederite smeraldi oro Ma oh ma raga ma io non posso lasciare in giro tutte quante queste robe Io ho un tour da fare ma non posso neanche star qui a sministare tutto quanto eh Allora lasciamo giù tutto quanto e iniziamo ragazzi iniziamo perché ho voglia di iniziare Allora qua lasciamo giù anche queste cose iniziamo ragazzi partiamo subito da casa mia Sapete ormai com'è fatta casa mia questa qua è la mia dimora da inizio della Big Vanilla È molto carina molto coccolosa anche se posso dire Non è grande quanto quella di Marci perché Marci come sapete ragazzi ha fatto una cosa gigantesca Guardate qua che costruzioni immense che ha fatto il buon Marci Ma di per sé ci smistiamo diciamo questa zona molto 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 bene E quindi quella lì è casa mia Poi abbiamo questa torre gigantesca del fuoco Che è la torre di Kendal per chi non lo sapesse Questa qui è la casa di Kendal che è molto bellina E ha costruito questa torre risposta a Marci Perché una volta hanno dovuto fare una sfida per il Big Ladro Quindi hanno fatto questa torre qui contro quella torrella di Kendal Poi decidete voi con questo minutaggio esatto qua sotto nei commenti Quale secondo voi è la più bella Poi da questo lato abbiamo il veliero di Kendal e il palazzo di ghiaccio Di che noia ragazzi è un palazzo di ghiaccio molto molto bello È una costruzione anche questa gigantesca Però ci può stare Qua abbiamo una bella casettina che è costruita perché qua c'è il nostro amico Francicoso Che ha una zona molto molto carina Ma di per sé casa sua ragazzi è all'interno incassonata dentro a questa montagna qui Perché bisogna entrare e praticamente si entra in questo modo qui Però è un pochino devastata Adesso non so bene dove si trova la nuova casa di Francicoso Però fino adesso io so che questa qui è la sua casa effettiva Poi per questa zona qui ragazzi noi andiamo verso questo lato Perché di qua abbiamo anche la casa di Nico 3005 Che è anche molto bravo ragazzi Lui nella big guerra si è comportato molto bene con noi Quindi lo ringraziamo il buon Nico Non ho ancora mai fatto un regalo a Nico ragazzi Quindi qua sotto nei commenti scrivetemi che regalo posso fare al buon Nico 3005 Qua abbiamo la vecchia casa di Xiao Dopo vi mostrerò dove ha fatto la sua nuova casa col vulcano Col buco del nether come avete detto E qua abbiamo la casa del vecchio big re oscuro Buddy Che è come se fosse una specie di castello come notate ragazzi È molto molto carino Con delle mura tutte quante attorno Guardate qua che bello che è molto molto bella la casa di Buddy Mi è sempre piaciuta veramente un sacco Qua poi abbiamo questo ponte che ha costruito Marce con tutta la sua zona attorno Che porta questo mini villaggio custom Non è un vero e proprio villaggio di nessun villager Per poi arrivare alla zona del vecchio castello Del big re ex big re loco Che è esploso durante il famoso evento Che aveva diviso poi il regno del big re oscuro Con il regno della big regina Fere Questa qui è tutta quanta la vecchia zona però dell'ex big re loco Se vi ricordate Poi qua abbiamo altre zone Abbiamo una banca Qua abbiamo appunto l'altro villaggetto Qua abbiamo la villa degli youtuber Perché qua ogni youtuber ha la propria stanzettina E qua abbiamo il muro che divide questa zona qua del villaggio Per poi ragazzi andare verso questa zona di qua Perché se non mi sbaglio Da qualche parte qua abbiamo la casa di guerra Il nostro amico guerra Che anche qua è molto molto carina Con questo legno tutto quanto rosso Rossastro molto molto bello E se tiriamo sempre dritti iniziamo a notare un sacco di beacon Perché di qua abbiamo la casa dell'ex big re loco Guardate qua Adesso si chiama lili Casa sua prima era loco Però lui ha questa zona qui ragazzi In mezzo alla montagna Con questa casa qui Costruita praticamente Sopra questo monticello Sopra questa zona qui Che è molto molto bella La casa di loco Mi è sempre piaciuta Non so perché Ma ha sempre avuto questo bellissimo effetto Col tetto scuro Fatta in birch Poi ha fatto uno smistamento chest Loco ragazzi Che si nasconde dentro questa montagna Che è veramente gigantesco Ora io non riesco a salirci Perché sono un po' stupidino Quando guido l'elitra Però vi assicuro ragazzi Guardate la vanina del buon loco Perché ha uno smistamento chest enorme Cioè ha lui più chest Rispetto a tutti quanti gli altri ragazzi Della big vanilla Ma ovviamente ragazzi È un tour Quindi andiamo a vedere Tutte quante le basi Dei nostri amici Quindi proseguiamo E andiamo verso Questa direzione qua Perché se noi tiriamo dritti Verso questa zona Ma tecnicamente Dietro a queste montagne Dovrebbe trovarsi anche la base Di Nat Se non mi sbaglio Qua abbiamo una casa verde Non giuro Questa non ho la più palida idea Di chi sia Perché c'è questa casa qua E tutta quanta fatta in smeraldo Raga Ma è esplosa anche Mi prendo questo smeraldino Lo rubo quasi qua Perché non me lo dà? Ehi aiuto Smeraldo Non mi dà lo smeraldo Vabbè ragazzi Non capisco perché Ma è una casa esplosa Vabbè È molto carina Di per sé Però non giuro Non so di chi sia Vabbè Allora proseguiamo Andiamo sempre dritti Versi qua Qua abbiamo lo zoo Che era stato costruito Per il big re Se non mi sbaglio E qua abbiamo Un solco del nether Costruito da xiao Molto 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 carino Con appunto La nuova zona di xiao Che è questa qua ragazzi Che ci può stare un sacco Questo qua è il vulcano Costruito da xiao Che praticamente Ha customizzato Una montagna intera Ha fatto un lavorone Bellissimo ragazzi Guardate qua Con Se non mi sbaglio Che se qui dovrebbe essere La casa di Nat E una zona Che mi piace veramente un sacco Guardate per esempio Questa torre qui Quanto diamine bella Poi se non mi sbaglio Qua vicino abbiamo anche La casa di Robby Che non so se è questa Ma qua ne abbiamo Un'altra Non so Io mi ricordo Che la casa di Robby Fosse questa qua Perché mi aveva invitato Più e più volte E ha anche un orso polare Con un nome stranissimo Ne ha due Polar Buddy E qua abbiamo Entra il regno scuro Per biscotti Sì Questo 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 Lo ricordo Perché ragazzi Ai tempi Quando volevo che Robby Entrasse all'interno Del regno Della big regina Mi ricordo Che avevo parlato con lei E mi ero trovato Questo orso polare Con scritto Entra il regno scuro Per biscotti Lo so Lo so ragazzi Lo so molto 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 bene Poi abbiamo La casa di Bella Faccia Che è questa qui Che è fatta tutta quanta Tutta fungosa La casa di Bella Faccia È una delle mie preferite Con Chi è che mi ha tirato Una freccia Chi è che mi ha tirato Io ho sentito una freccia Che mi partiva Ancora Ah no Sono le Ha una farm di polli Bella Faccia Ha una auto farm Di se stesso Come diamine si permette Bella Faccia ragazzi Di auto farsi una farm Oh no no Ma qua è piena Mi rubo un po' di carne Che rubo un bella faccia Adesso che siamo tornati Per amici nella Big Vanilla Siamo sempre sette amici Però facciamo un po' di due regni Diversi Quindi è normale Qua c'è una cassa Che ho scritto Buddy E questa qua è la quasi bella faccia Ragazzi guardate che bellina Io ovviamente non entro Nel dettaglio ragazzi Tutte quanti le varie basi Delle altre persone Perché dovete andare A vedere i loro video Per appunto capire Come sono fatte Per tutti quanti i dettagli Io sto facendo Un tour generale del mondo Per far vedere ogni volta Ogni tot mesi progressi Perché mi piace molto come cosa Poi qua abbiamo Altre basi di altri ragazzi Che sono passati Per la Big Vanilla Qua abbiamo anche Lorenzis Poi di qua ragazzi Andiamo Verso la base Di Favij E ragazzi Verso quegli alberelli Tutti quanti azzurri Che sono stati Uno dei motivi Per la guerra Che hanno fatto Contro bella faccia Abbiamo La base Di Steffo E di Fere Che mi sono schiantato Contro questo pezzettino Qua di Pozzor Ragazzi Mi ha distrutto un anca Probabilmente Ma Se noi seguiamo sempre dritti Questi alberi qua azzurri E sono molto 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 belli Guardate dove arriviamo Arriviamo alla base Di Steffo E Fere Che è bellissima Se non sbaglio Ho costruito da Marci Questa base qua Non mi ricordo Però Sì io le ho lasciato un regalo Però vediamo se l'hanno preso Perché loro sono sempre pieni In Zeppi di Chess In giro per la casa Qua abbiamo Barci Vediamo se non hanno ancora preso Il mio regalo Dovrò avvisarli Tramite un messaggio privato Però Vabbè ragazzi Questa qua È la base Di Steffo E Fere Guardate qua Che è molto 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 bella Poi Hanno fatto anche un grandissimo Lavoro a livello estetico Durante il loro live Perché ragazzi Hanno fatto veramente Degli upgrade Molto molto carini Hanno fatto una zona Tra quanta costruita Sugli alberi Che è molto molto bella E ho dato una mano anche io Per esempio Per costruire se non mi sbaglio Una zona di là E qua hanno fatto anche Da poco tempo Anche un acquario Che è veramente Molto molto bello Per i due Axelot Perché questo qui è cacao Poi ce n'è uno nuovo Non so se hanno già detto O meno che lo hanno Quindi non ve lo faccio vedere Non so se Gli hanno magari già messo un nome Che non posso dire o spoilerare Però Di per sé Ragazzi Questo qui è il tour Molto Molto velocizzato Della Big Vanilla Se non mi sbaglio Non credo di aver dimenticato Qualche base Qua abbiamo un villager Non so di chi diamine sia Questo villager Non so come sia sponato qua Non so di chi Cos'è Lascia il tuo tributo Ma che diamine è ragazzi Non c'è nessun tributo qua dentro Vabbè Allora Facciamo così ragazzi Io spero che questo tour Della Big Vanilla Vi sia piaciuto Ho cercato di Mettere più Rova possibile Dentro questo mondo Facendo vedere le cose più Estetiche più belle E tutte quante le base Dei nostri amici Nel meno tempo possibile Perché Se no Sarebbe durato veramente troppo Io spero che vi sia piaciuto Ragazzi Mettendo qua dietro Coco Di me E qua ve lo faccio vedere Vi ringrazio Ho visto tutto quanto In questo episodio Vi invito a lasciare Un bel mi piace Un bel commento A iscrivervi al canale Se vi è fatto A scegliere uno Detto video qua davanti Mi raccomando È molto importante Attivate la campanella Attivate tutte quante le notifiche E scegliete uno Detto video qua davanti E iscrivetevi Se siete nuovi E noi ci vediamo In un prossimo video Da Marco è tutto ragazzi Ciao ciao Ciao